Capitano Sergio, chiamiamo soccorso, abbiamo bugato tre colui, siamo a Sabaglia, vieni ividi a rimasso subito, ciao grazie! Jack chiama il presidente di football, ecco che qua, chiama il fan di Patrio G, però io me ne vado, vedo che stai quasi quasi, eh? Ok, muovevi a me, fai la fine, si si si, si si, fai la fine, prima o poi arrivi, te lo fai!